Questo video serve per capire come veniamo persuasi ogni giorno di cose che non ci convincerebbero affatto se non fosse che ci vengono presentate con dei trucchi molto efficaci. La pubblicità, la propaganda politica usano questi trucchi e così noi che ci crediamo liberi di scegliere che cosa comprare, di scegliere chi votare, in realtà finiamo per fare quello che vogliono loro. Guardiamo insieme questo breve filmato. Nel filmato c'è un gruppo di persone giovani, ricche, belle, eleganti e felici che bevono Glenn Grant e questo è il contenuto del filmato e questa è l'impressione che ci arriva ed è efficace. Ma proviamo a immaginare che invece che le immagini questo stesso contenuto ci venisse comunicato attraverso una frase linguistica detta da un individuo che ci dicesse chi è giovane, ricco, bello, elegante e felice beve Glenn Grant. Oppure peggio, chi beve Glenn Grant è giovane, ricco, bello, elegante e felice. Beh, ci sembrerebbe plausibile, ci crederemmo. Assolutamente no. Eppure questi contenuti che detti linguisticamente ci fanno quasi schifo, per immagini funzionavano. Tanto è vero che questa pubblicità per decenni è stata ripetuta e ha continuato a dare alle generazioni l'impressione che ci fosse qualcosa di affine tra bere Glenn Grant ed essere giovani, ricchi, belli, eleganti e felici. Perché le immagini sono così migliori delle parole per convincere di qualche cosa? Beh, tutti sanno che le immagini impattano più di quello che arriva dagli altri cinque sensi sul nostro cervello. Perché il nostro sistema nervoso centrale ha risorse maggiori per la visione che per l'ascolto, per esempio, o per il linguaggio in generale. Per cui quello che noi vediamo ci rimane più impresso, lo ricordiamo meglio rispetto a quello che ascoltiamo oppure che leggiamo. Ma allora, se le immagini impattano di più su di noi, se ci colpiscono di più, in teoria, si potrebbe pensare, è più facile accorgersi se dicono qualcosa di falso. Cioè, questi tizi che bevono Glenn Grant, che sono buffonata, noi nelle immagini dovremmo accorgerci che è falso. Invece non ce ne accorgiamo e se lo stesso contenuto ci viene detto espressamente chi è giovane, ricco, bello, elegante, felice, Beverly Glenn Grant, ce ne accorgiamo molto di più. Quindi le immagini impattano di più, ci potremmo aspettare che la nostra attenzione critica sulle immagini fosse maggiore che sul linguistico e invece non è così. Si può provare a spiegare questo fatto con la psicologia evolutiva, cioè con il modo in cui il nostro cervello e la nostra mente si sono evoluti per diventare sempre più adatti alla sopravvivenza. In pubblicità i paesaggi da sogno, le scene di armonia familiare, le donne bellissime e dall'aria accessibile hanno tutti la stessa funzione e cioè dire qualcosa ma senza dirla. Trasmettere un messaggio sul prodotto talmente positivo che se fosse detto esplicitamente non verrebbe creduto. Insomma le immagini hanno il potere di rendere credibile quello che linguisticamente non sarebbe credibile e verrebbe rigettato. Vediamo perché. Il grande scienziato evoluzionista Richard Dawkins, lavorando insieme con John Krebs, ha sostenuto che i linguaggi animali si sono evoluti con lo scopo principale di manipolare, cioè di far sì che altri individui facessero la volontà di chi comunicava. Cosa significa? Significa che i richiami anche embrionali dei linguaggi degli animali avevano la funzione per esempio di convincere un altro individuo ad allontanarsi da un cibo che volevo io, oppure da una femmina che volevo io, oppure invece la femmina usava delle parti del linguaggio che aveva a disposizione per convincere un certo maschio che gli andava bene ad accoppiarsi con lei. Questo era un vantaggio, cioè essere bravi a manipolare consentiva di sopravvivere più probabilmente e di riprodursi più probabilmente. Quindi gli esemplari che padroneggiavano le forme più evolute di questa capacità di manipolazione avevano maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi. Insomma, chi geneticamente era migliorato nella capacità di manipolazione aveva più prole, quindi la generazione successiva conteneva più gente, per così dire, capace di manipolare. Poi, se c'erano ulteriori mutazioni favorevoli, la capacità di manipolazione migliorava in alcuni individui, proprio quegli individui avevano più prole e quindi ce n'erano di più nella generazione successiva. Nella profondità dei milioni di anni questo ha fatto sì che i linguaggi animali progredissero e migliorassero sempre di più e diventassero sempre più manipolativi. Gli umani non fanno eccezione, si sono evoluti anche loro e quindi noi abbiamo sviluppato anche noi molto questa capacità, anzi il nostro linguaggio è molto più evoluto di quello degli altri animali e quindi contiene una straordinaria capacità di manipolare, di convincere. Però il ragionamento può essere applicato ulteriormente all'inverso, in maniera speculare, e cioè se c'è un vantaggio adattativo, evoluzionistico a essere bravi a manipolare, c'è anche un vantaggio a non lasciarsi manipolare, cioè a vagliare i messaggi che arrivano da un altro individuo di cui ci accorgiamo che vuole cambiare le nostre credenze, i nostri comportamenti e vagliandoli, controllandoli, decidere se ci convengono o no. Ecco, gli individui che avevano questa capacità, che potremmo chiamare attenzione critica, più ne avevano e più anche loro avevano probabilità di sopravvivere e riprodursi. Quindi anche l'attenzione critica, lo specchio della manipolazione, la resistenza alla manipolazione si è evoluta diventando sempre migliore, si sono evolute di pari passo. La manipolazione è quella che Krebs e Dawkins chiamano sales resistance, cioè resistenza alla vendita per l'appunto, con una metafora pubblicitaria. Siamo tutti discendenti di un processo di affinamento della resistenza al tentativo di convincerci, perché è un vantaggio adattativo. Insomma, quello che succede come risultato è che la comunicazione umana, quella linguistica in particolare, obbedisce alla legge dell'attenzione critica. Cosa è questa legge dell'attenzione critica? È il fatto che quando un cospecifico, un individuo della stessa specie, manifesta l'intenzione di convincerci di qualcosa, ecco, la consapevolezza che l'emittente cerca di modificare le nostre credenze, solleva in noi una reazione critica. Allora, l'essenza dell'asserzione è proprio questa, cioè manifestare l'intenzione di persuadere, manifestare il fatto che un mittente vuole trasferire un messaggio. Se qualcuno asserisce qualcosa parlando con me, è chiaro che ha l'intenzione di farlo, non gli può succedere involontariamente. Quindi, appena mi dicono qualcosa, scatta in me, per la legge dell'attenzione critica, la reazione di domandarmi questa sua intenzione, mi conviene o non mi conviene? Ho evoluto la disponibilità, la tendenza a reagire appena qualcuno cerca di modificarmi. L'asserzione cerca di modificarmi e io reagisco criticamente. Quindi l'asserzione è straordinariamente inadeguata per convincere di cose false o discutibili, perché se io asserisco, l'altro che fa, si domanda se è vero o falso. E se è falso o discutibile, si accorge che non è vero. Ad esempio, se io mi rivolgo a qualcuno e mediante un'asserzione gli dico, chi beve glengrante, giovane, ricco, bello, elegante e felice, lui in quell'asserzione vede un individuo che sta cercando di convincerlo. Quindi istintivamente gli si attiva la reazione critica e si domanda, ma questo messaggio è vero o falso? Naturalmente si accorge che è falso, quindi rifiuta il messaggio e rifiuta anche glengrante. Se invece vede delle immagini che trasmettono esattamente lo stesso contenuto, cioè che le persone che bevono glengrante sono giovani, ricche, belle, eleganti e felici, nelle immagini non vede una persona che sta cercando di convincerlo, gli sembra di vedere la realtà innocente, neutrale. Quindi non gli si attiva la reazione critica, non mette in discussione, non si domanda se è vero o falso, accetta il messaggio e accetta anche glengrante. Le immagini non sembrano avere dietro qualcuno che ci vuole convincere, non sembrano prodotte da qualcuno, sembrano realtà. Noi possiamo anche sapere che sono prodotte da qualcuno, ma questo è una consapevolezza razionale. Istintivamente non ci colpiscono per la presenza di un individuo che sta cercando di convincerci. Quindi non fanno scattare quella reazione critica che abbiamo evoluto nei milioni di anni. La ragione è semplice, per milioni di anni le immagini erano veramente reali, le immagini non le poteva produrre nessuno, se vedevi qualcosa ti potevi fidare, quella cosa era vera. È da pochissimo tempo che gli esseri umani possono produrre immagini artefatte e quindi mascherare le loro intenzioni attraverso qualcosa che sembra realtà. In quelli pochissimi anni noi non abbiamo fatto in tempo a evolvere una reazione critica. Quindi se siamo attenti ci diciamo, queste immagini le ha prodotte qualcuno per convincermi, ma se non siamo attenti va avanti l'istinto e l'istinto è quello per cui reagiamo criticamente quando qualcuno è davanti a noi e ci dice fai questo, credi questo. E non reagiamo criticamente quando invece davanti abbiamo soltanto un'immagine che sembra la realtà. Detto in due parole, l'intenzione di persuaderci con le immagini resta implicita, mentre con i discorsi diventa esplicita. Allora la tentazione del pubblicitario potrebbe essere quella di non adoperare per niente il linguaggio. Però spesso le pubblicità devono trasferire contenuti o troppo precisi e dettagliati, oppure troppo astratti e ragionativi, perché le sole immagini possano renderli comprensibili. Ad esempio come fai a dire solo con le immagini senza testo che una lavatrice fa l'intero ciclo con 20 litri d'acqua, oppure che tutti i dentisti raccomandano un dentifricio perché è ricco di fluoro. Allora cosa succede? Che le pubblicità tipicamente hanno anche dei brevi testi. Significa che il pubblicitario si arrende a quel punto, non cerca più di apparire innocente, non può più nascondere la sua intenzione e accetta di manifestare completamente attraverso un enunciato linguistico l'intenzione di dire quella cosa. In realtà non è così, perché il linguaggio è uno strumento talmente complesso che non tutte le espressioni linguistiche hanno lo stesso grado di esplicitezza. Cioè ci sono delle costruzioni linguistiche che permettono di trasferire l'informazione dando a intendere che uno non voleva veramente trasferirla, la nascondono, la rendono innocente quasi come se fosse un'immagine, la rendono appunto implicita. Ora questa cosa non l'abbiamo scoperta oggi nell'era della comunicazione moderna, ma si sa da sempre. Ad esempio Virgilio, il grande poeta della Roma antica, guardate come ha confezionato questo verso dell'Eneide. Quadru pedante putrem sonitu quatitungula campum, dice questo verso. Lo ripeto, quadru pedante putrem sonitu quatitungula campum. Anche se uno non è in grado di tradurlo, io credo che se ci si prova si riesce a capire di cosa parla. Quadru pedante putrem sonitu quatitungula campum. Quadru pedante putrem sonitu quatitungula campum. Parla di un galoppo di cavalli, si sente che parla di un galoppo di cavalli. Infatti il significato delle parole è gli zoccoli scuotono, percuotono il terreno putrido con un suono quadrupede. Questo è solo il significato delle parole, ma anche senza il significato delle parole noi già potevamo sentire che il significato del verso era quello che parlava di cavalli. Virgilio è un maestro perché questo significato lo esprime due volte. Una prima volta senza che neanche ce ne accorgiamo, già abbiamo capito che è un galoppo di cavalli dai suoni e poi topo dal significato delle parole. La stessa bravura con i suoni di Virgilio la usavano, pensate un po', i pubblicitari, i copywriter che hanno dato i nomi delle auto di diverse marche in Italia alla metà degli anni Ottanta, in particolare le auto di media cilindrata. Sentite i nomi di queste auto. Prisma, Dedra, Trevi, Tempra, Astra, Chroma, Lantra, Vectra, Primera, Patrol, Escort, Scorpio, Sierra, Accord, Corrado, Maestro, Terra. Perché i nomi erano questi? Avrete notato che contenevano sempre o una doppia R, oppure una R con una consonante, questi suoni evocano il rombo meccanico di un motore. Quindi non era un caso che i nomi contenessero questi suoni, servivano a dire al potenziale acquirente, ma senza dirglielo esplicitamente, guarda che questa macchina è molto potente. Se gli avessero detto esplicitamente, se la pubblicità avesse contenuto la frase questa macchina è molto potente, la persona ricevendo il messaggio esplicito avrebbe riflettuto e si sarebbe detta beh molto potente, è un 1500, è benzina, è una media cilindrata. Le persone quando compravano un'auto di media cilindrata negli anni Ottanta in Italia desideravano che fosse potente, non gli interessava che consumasse poco, che inquinasse poco, desideravano che fosse potente ma sapevano che non era potentissima. Allora dicendoglielo esplicitamente avrebbero fatto mente locale, si sarebbero ricordati che non era potentissimo. Mettendoci questi suoni ricevevano una sensazione, una sensazione implicita, molto più convincente che l'auto fosse potente. La riprova di questa intenzione è che i numeri tecnici con cui venivano specificati i nomi di queste auto erano solo i seguenti. 4, 33, 164. Cioè tutti i numeri che contenevano il suono tr. Non c'era un 6, un 5, un 2 che non avrebbero comunicato nessun senso di rombo meccanico. Ulteriore riprova. Le utilitarie, che invece non dovevano dare l'idea di potenza ma dovevano suonare simpatiche e poi piccoline. Avevano dei nomi brevi ed erano questi nomi. Duna, Clio, Uno, Panda, Twingo, Elba, Fiesta, Polo, Punto. Provate a trovare una R. In una pubblicità degli anni Ottanta la Phillips faceva una cosa strana. Diceva alle persone che leggevano le riviste dove compareva la pubblicità che stavano vivendo con gli occhi chiusi. Era una metafora per dire hai una vita difettosa finché non compri uno schermo a Phillips. Quindi insomma una cosa in realtà spiacevole e offensiva. Come mai la Phillips diceva una cosa spiacevole e offensiva a quelli di cui voleva guadagnarsi la simpatia per vendergli un prodotto? Perché gliela diceva in modo molto astuto. Vediamo come. Lascia che Phillips ti apra gli occhi. Lascia che Phillips ti apra gli occhi. Esplicitamente dice Phillips è buona e ti vuole aprire gli occhi. Che tu stai vivendo una vita difettosa e che quindi sei un po' sbagliato non lo dice espressamente. Lo dà per scontato, lo nasconde nel messaggio. Attraverso l'idea di aprire gli occhi ti dice che hai gli occhi chiusi e siccome lo dà per scontato noi non ci offendiamo, non facciamo mente locale, non lo notiamo. è un meccanismo dovuto al verbo aprire. Quando io sono in una stanza con un'altra persona e gli dico vai nell'altra stanza e apri la finestra, che cosa gli sto dicendo di aprirla? Ma mentre gli dico di aprire la finestra do per scontato e lo informo che la finestra è chiusa. Ma glielo comunica in modo implicito, attirando l'attenzione sulla richiesta di aprirla quella finestra, Phillips faceva lo stesso, cioè per la legge dell'attenzione critica. Se avesse detto chi non ha un televisore Phillips non sta vivendo la vera vita ma sta vivendo con gli occhi chiusi noi avremmo, ci saremmo accorti, avremmo fatto attenzione e avremmo detto questa è una sciocchezza, una falsità e non avremmo dato retta al messaggio. Invece dando per scontato, col dire lascia che Phillips ti apra gli occhi, dando per scontata questa cosa che chi non ha un Phillips ha gli occhi chiusi, noi non la mettevamo in discussione e quindi la accettavamo cognitivamente dentro di noi e si creava in noi la sensazione di una carenza, di avere un'insufficienza, che la nostra vita non era bastevole se non compravamo un televisore Phillips. Al giorno d'oggi Citroen e Renault non per caso si servano della stessa strategia. Citroen per esempio ha dei cartelloni dove c'è scritto non guardare il mondo con gli occhi degli altri, apri i tuoi. Se ci dicesse chi non ha una Citroen guarda il mondo con gli occhi degli altri noi ci accorgeremo, faremo attenzione, ci accorgeremo che è falso, invece lo dà per scontato, dà per scontato che chi non ha una Citroen diciamo aprirà gli occhi solo comprandola e quindi lo accettiamo di più. Oppure Renault attraverso una pubblicità inglese dice stop watching, start living, smetti di guardare, inizia a vivere ed è sottointeso, quindi noi non lo sfidiamo criticamente, non lo mettiamo in discussione, che la vita inizi quando uno si compra una Renault. Questa pubblicità dell'Alfa Romeo è confezionata con una accuratezza e una cura dei dettagli straordinari. Vedete il padre e il figlio sono seduti su un divano. Com'è questo divano? È immenso, non si vede l'inizio e la fine. Poi è acquerellato ma si capisce che è di pelle, quindi è un divano grande e costoso. Poi dietro c'è un accenno di una pianta, però una pianta grande, quindi che occupa molto spazio. Queste cose fanno capire che i due sono benestanti, addirittura ricchi. Del resto, per l'epoca, per gli anni Ottanta, sono vestiti in modo elegante, sobriamente elegante, quindi sono benestanti, stanno bene, però anche in modo comodo, quindi hanno una vita agiata, non solo dal punto di vista economico. Poi c'è molta armonia fra i due. Naturalmente queste sono informazioni che servono molto a creare il desiderio di essere come loro. Sono ricchi, agiati e poi sono in armonia appunto. Il padre e il figlio si guardano amorosamente, il padre sfiora il figlio. Il figlio addirittura è vestito in modo molto simile al padre, però con colori un po' più allegri, più birichini e il figlio è pettinato con una pettinatura che è l'equivalente della pettinatura del padre. Insomma, tutto questo ci dice che il figlio e il padre sono in armonia e si vogliono bene e si somigliano, il figlio non darà dei grattacapi al padre, tutto super desiderabile. Oltre a questo, il figlio ama le macchine perché ne tiene una in grembo e allora probabilmente il padre, visto che si somigliano, sarà uno che ama le macchine, salvo che quando siamo a livello di padre, il padre sarà anche un intenditore di macchine, uno di cui ci si può fidare. E che cosa dice questo padre? Dice una headline, uno slogan che è sicuramente curato quanto tutto il resto e dice, mi sono sentito grande con la mia prima alfa. Allora, apparentemente il messaggio è, l'alfa se uno è un neopatentato lo fa sentire grande, ma è possibile che tutta questa accuratezza e tutti i soldi che servono per arrivare a questo risultato, a diffonderlo, fossero per vendere qualche alfa a qualche neopatentato. Sicuramente no. Il messaggio vuole arrivare a tutti i potenziali acquirenti di alfa, che per lo più sono dei maschi adulti benestanti e tutt'altro che neopatentati. E quindi l'informazione sul figlio, sul sentirsi grande, in realtà è un pretesto. Un pretesto per cosa? Per poter dire la mia prima alfa, perché l'aggettivo prima presuppone che poi ce ne saranno altre. Dicendo la prima, la mia prima alfa, si dà l'impressione che questo padre felice a cui vorremmo assomigliare poi ha sempre comprato alfa. Se io vi dico, la prima volta che sono stato in Brasile, ho visto il Rio delle Amazzoni, voi venite a sapere che sono stato in Brasile altre volte, anche se io non l'ho detto esplicitamente. E qui era importante non dirlo esplicitamente, perché se il padre felice dicesse, chi compra un Alfa Romeo poi compra altre Alfa Romeo, noi ci accorgiamo che è falso. Ci viene in mente che poi può comprare una Mercedes su una BMW o quello che gli pare. Allora, perché noi non ci accorgiamo che è falso, lo presuppone. Dice, la mia prima alfa. E in questo modo effettivamente funziona. Funziona così bene che 30 anni dopo, l'Audi, vedete, fa esattamente la stessa cosa. Cioè, 30 anni dopo ci vuole l'inglese, perché è di prestigio. Ma l'Audi non dice, chi compra un Audi poi compra altre Audi. Dice, it is time for your first Audi. È tempo per la tua prima Audi. Ecco, preferisce molto presupporlo, perché presupponendolo, un contenuto altamente discutibile o falso, riusciamo ugualmente a contrabbandarlo nella testa del target, nella testa dei riceventi. Insomma, quando un emittente ha un contenuto discutibile, cerca di evitare che i destinatari si accorgano che è discutibile oppure addirittura falso. Allora, come fa? Se lui lo asserisse, mediante l'asserzione provocherebbe una reazione critica, perché l'asserzione, abbiamo visto, risveglia l'attenzione, risveglia la capacità di accorgersi che c'è qualcosa che non va. E quindi il ricevente si arrabbia e si accorge. Allora, per evitare questo, cosa fa l'emittente? Preferenzialmente usa immagini o suoni. Quindi il contenuto discutibile appare con una faccia amichevole, non c'è la reazione critica, invece c'è la accettazione. Le persone non si accorgono che tutta quella cosa sui ricchi e Glenn Grant è falsa, accettano e il ricevente sorride senza accorgersi che è stato ingannato. Quando però il contenuto è del tipo che le semplici immagini o le musiche non possono spiegare bene, occorre usare il linguaggio. E allora cosa si usa? La terza possibilità, e cioè dei costrutti sì linguistici ma impliciti, che quindi fanno nuovamente una faccia amichevole, non rivelano che c'è un insidia e il risultato è lo stesso delle musiche o delle immagini, è la accettazione. Il ricevente sorride e non si accorge che è stato ingannato. Non so quanto vi ricordiate la Bibbia, ma se vi chiedessi quanti animali di ciascuna specie ha caricato Mosè sull'arca, voi cosa mi rispondereste? Due? In degli esperimenti molto accurati moltissimi soggetti hanno risposto due e pochissimi, quasi nessuno, si è accorto che la domanda chiedeva quanti animali Mosè, non quanti animali Noè. Ora forse ve ne siete accorti anche voi. Perché non ci si accorge che Noè è stato sostituito da Mosè? Perché la domanda chiede quanti animali e presuppone che sia stato Mosè. Allora il linguaggio va così veloce che noi, senza saperlo, processiamo certe parti delle frasi meglio e certe parti meno bene. Ecco, la parte presupposta è un segnale che ci arriva che possiamo anche processarla meno bene e quindi non ci accorgiamo se c'è qualcosa di falso nella parte presupposta. Noi ci crediamo delle macchine perfette che processano tutto nella stessa maniera, che sono consapevoli di tutto e invece è facilissimo ingannarci segnalandoci che una certa parte dell'enunciato è più importante e un'altra parte meno. Senza neanche accorgercene, noi la processiamo con minore attenzione, non ci accorgiamo se ha dei difetti. Ecco, i persuasori, quelli che usano il linguaggio in maniera persuasiva, non fanno questi studi ma si accorgono di questa differenza e usano il linguaggio istintivamente in modo da sfruttare questa differenza per ingannarci. Langford e Holmes hanno fatto un esperimento simile ma basato sui tempi di elaborazione. I loro soggetti sperimentali leggevano una frase e poi guardavano una figura e a quel punto dovevano dire se la frase era vera o falsa e per dirlo dovevano premere un pulsante, cioè o il pulsante sì o il pulsante no, che avevano davanti. E Langford e Holmes hanno misurato i tempi. Allora, se la figura era la figura con l'uomo che spinge il mobile, le frasi erano di questo tipo. È la donna che sta spingendo il mobile oppure è il mobile che la donna sta spingendo. Nel primo caso l'errore, cioè la donna è in evidenza e che sta spingendo il mobile è in secondo piano, mentre è il mobile che la donna sta spingendo mette in primo piano il mobile e la donna in secondo piano, lo presuppone. Per l'altra immagine, quella dell'uomo che lava i piatti, è l'uomo che sta lavando il pavimento, dà per scontato che stia lavando il pavimento e mette in evidenza, è l'uomo. Invece è il pavimento che l'uomo sta lavando, mette in evidenza il pavimento, cioè l'errore, e dà per scontato che l'uomo stia lavando. Allora, ripeto, dovevano premere il pulsante per dire se la frase era vera o falsa. Cosa è successo? Che quando l'errore della frase era nella parte in evidenza, premevano il pulsante subito, velocissimamente. Quando l'errore era nella parte presupposta, gli ci voleva più tempo, statisticamente era significativo, gli ci voleva più tempo per premere il pulsante. Questo che cosa ci dice? Ci dice che quando un enunciato contiene un errore, una cosa falsa, nella parte asserita, ce ne accorgiamo subito. Quando invece contiene un errore nella parte presupposta, è molto più difficile accorgercene. E questo naturalmente può essere sfruttato per convincere le persone di cose false, basta metterle nella parte presupposta. I politici non studiano il cervello, però sanno molto bene come sfruttare la comunicazione implicita e usano gli stessi trucchi dei pubblicitari. Vediamo un esempio, cioè la campagna elettorale nazionale per le politiche del 2006 in Italia. Vedremo sia come si è comportato la destra, Forza Italia, sia come si è comportata la sinistra, Lulivo Margherita. Cominciamo da Forza Italia, vediamo quali erano i cartelloni nazionali di Forza Italia nel 2006. Di nuovo la tassa di successione, no grazie. I no global al governo, no grazie. Fermiamo le grandi opere, no grazie. Più tasse sulla tua casa, no grazie. Più tasse sui tuoi risparmi, no grazie. Immigrati clandestini a volontà, no grazie. Cosa faceva Forza Italia? Diceva noi siamo contrari a tutte queste cose brutte, che presentava come brutte. Quindi esplicitamente diceva noi siamo contro le cose brutte. Però la parte più importante del messaggio non era questa. Se io dico a uno l'ombrello no grazie, non mi serve. Cosa si capisce? Cosa implichiamo subito? Che qualcuno, questo qualcuno, mi ha offerto un ombrello. Cioè dire no grazie a qualcosa significa che si sta ponendo il problema di quella cosa. Allora, porre il problema della tassa di successione, porre il problema di tasse sulla casa, porre il problema di specie di criminali al governo, di fermare le grandi opere, cosa significa? Significa fa implicare a chi? A noi, i destinatari, agli elettori, che c'è il rischio di queste cose. E questo rischio come è configurato? Da cosa dipende? Dipende dal fatto che ci sono degli stereotipi che dicono la sinistra è tipicamente è contraria alle grandi imprese, è contraria a chi ha il patrimonio, tassa molto chi è ricco, eppure invece si allinea, si allea con gli immigrati, con gli irregolari, anche gli immigrati, i marginali, i criminali, la sinistra è più vicina a queste frange. Allora, grazie a questi stereotipi, la destra faceva implicare a noi, agli elettori, che la sinistra avrebbe fatto tutte queste cose. Il messaggio importante non è solo noi della destra siamo contro le cose brutte, ma se la sinistra vince fa un sacco di cose brutte. Ecco, se lo avessero asserito esplicitamente, se avessero detto la sinistra metterà la tassa di successione, chiunque si sarebbe accorto che era falso, non era scritto da nessuna parte nel programma della sinistra, e così via. Queste accuse fatte direttamente non sarebbero state convincenti, ma lasciandole implicare a noi, lasciando che fossimo noi a fare il lavoro sporco di accusare la sinistra, noi non le mettevamo in discussione, perché un'idea venuta a me, io non la metto in discussione. Questo era il trucco. Ora, la sinistra faceva esattamente la stessa cosa. Vediamo come erano i cartelloni nazionali, fotografati a poca distanza da quelli della destra, dell'olivo Margherita nella campagna elettorale del 2006. Una sanità che funziona rende tutti più liberi. Senza asili nido le famiglie non crescono. Il lavoro precario chiude la speranza. Cosa sono queste? Sono delle cose su cui tutti siamo d'accordo. È molto meglio che la sanità funzioni, è molto meglio che le famiglie abbiano gli asili nido, è brutto che i giovani debbano avere il lavoro precario. Ma queste cose su cui tutti siamo d'accordo non erano questo il vero messaggio che la sinistra voleva trasmettere. Se io ho uno che sta uscendo di casa e dico guarda senza ombrello ci si bagna, lui cosa capisce? Capisce che sta piovendo. Io non ho detto che sta piovendo. Allora, se io dico una cosa ovvia, però si capisce che l'ho detta perché c'è un motivo. Ecco, se la sanità che funziona rende tutti più liberi, si capisce che c'è un motivo. Il motivo qual è? Stereotipi sulla destra, e cioè la destra taglia sul welfare, taglia sull'assistenza, la destra è favorevole ai datori di lavoro e favorisce forme di lavoro precario. Questi stereotipi, aleggianti nella mente delle persone, fanno sì che fossimo noi, noi destinatari, noi potenziali elettori, ad attribuire alla destra queste intenzioni. La sinistra non si metteva in cattiva luce dicendo la destra farà cose brutte, ma lo lasciava implicare a noi. Noi implicavamo che la destra avrebbe tolto la sanità, che la destra avrebbe tolto gli asili nido. Quindi l'accusa, la formulavamo noi, veniva in mente a noi, e non la mettevamo in discussione, ci convinceva parecchio. Uno potrebbe dire è andata così nel 2006, ma non sempre i politici comunicano in questa maniera, e invece sempre comunicano, sono astuti. Per esempio, la stessa identica formula, 12 anni dopo, come fosse l'altro ieri, nel 2018, alle elezioni politiche, la Lega di Matteo Salvini, quindi una forza politica anche diversa, che cosa diceva? Diceva, schiavi dell'Europa? No grazie. Allora, cosa vuol dire schiavi dell'Europa? No grazie. Vuol dire noi non vogliamo essere schiavi dell'Europa, ma al tempo stesso è molto utile per far implicare, per far venire in mente che qualcosa potrebbe renderci schiavi dell'Europa. E cos'è che potrebbe renderci schiavi dell'Europa in clima di campagna elettorale? Gli avversari politici della Lega di Salvini. Quello che ci fanno implicare è, se vincono loro ci renderanno schiavi dell'Europa. Bene, un'affermazione del genere è esagerata e poco credibile, ma se siamo noi a implicarlo, se siamo noi a mettere l'idea, se siamo noi a fare il lavoro sporco, ci crediamo molto più facilmente. In certi casi si può usare l'implicito, perfino per ridefinire il significato di una parola. Guardate cosa faceva la Lega in questo caso. Giù le mani dalla famiglia, no ai matrimoni omosessuali. Se avessero detto esplicitamente quelle omosessuali non sono famiglie, molte persone riflessive avrebbero capito che si poteva discutere, avrebbero detto ma forse invece sono famiglie. Invece in questo modo viene dato per scontato, è come se io dicessi viva l'intelligenza, no al computer. Do per scontato che il computer è nemico dell'intelligenza e dicendolo in questo modo, cioè senza dirlo in maniera implicita, evito che le persone ci riflettano sopra. Tanto è vero che basta cambiare una sillaba per ottenere l'effetto opposto. Ecco fatto. Giù le mani dalla famiglia, sì a matrimoni omosessuali. Di nuovo non ho detto niente esplicitamente ma stavolta lascio implicare, sottintendo, che quelle omosessuali sono vere famiglie e che quindi difendere la famiglia significa difendere le unioni omosessuali. Un altro tipo di implicito molto efficace è la vaghezza. Essendo vaghi si evita che il destinatario si accorga se c'è qualche dettaglio che non va. Vediamo cosa faceva Giorgia Meloni. In Europa per cambiare tutto. Cosa vuol dire cambiare tutto? È estremamente vago. Prendere Düsseldorf e metterla dove adesso c'è Gallarate, montare una nuova Tour Eiffel nel tuo giardino, permettere che si costruisca di più nei luoghi di bellezza naturale, oppure invece distruggere e abbattere i manufatti, i palazzi che ci sono in luoghi di grande bellezza naturale. Tutto può voler dire tutto e il contrario di tutto. Cosa succedeva? Siccome è molto vago, ognuno in questo slogan vedeva quello che voleva. Quelli che erano per costruire di più ci vedevano costruire di più. Quelli che erano per abbattere gli edifici nei luoghi naturali ci vedevano abbattere gli edifici nei luoghi naturali. Quindi grazie a questa vaghezza, senza dire esplicitamente qualcosa, siccome suona bene cambiare tutto, Meloni riusciva a far sentire tutti quanti d'accordo con lei, anche se in realtà non sapevano d'accordo su cosa. La stessa cosa che nei cartelloni succede anche nei tweet o nelle brevi frasi dette in televisione dai politici. Ad esempio, quando Matteo Salvini ha detto tutti gli altri sono il vecchio, noi abbiamo il nuovo. Tutti gli altri sono il vecchio che cosa significa? Che cosa sono del vecchio? Nel vecchio, nel passato c'è di tutto, anche nel nuovo c'è di tutto, quindi è talmente vago che non significa niente, però serve molto ad attirarsi la simpatia delle folle. Oppure, questa frase di Matteo Renzi, molto simile, noi dobbiamo dire qui che il passato non ci basta e il futuro è casa nostra. Ecco, il passato è una quantità tale di cose. Non è che significhi veramente qualcosa il passato non ci basta, non è che significhi qualcosa il futuro è cosa nostra. Non significa niente ma suona maledettamente bene e quindi la gente concepisce simpatia, si sente d'accordo anche se a ben guardare non sa su cosa è d'accordo. Oppure, sempre Salvini, io ormai sono convinto che l'immigrazione sia un progetto studiato e finanziato per sostituire etnicamente i popoli europei con nuovi schiavi da pagare 3 euro all'ora per il loro lavoro. Ecco, studiato e finanziato. È facile dire studiato e finanziato. Uno non dice studiato da chi come, non dice finanziato da chi e come, resta tutto molto vago, non si sa nemmeno chi sta accusando, non si sa nemmeno di cosa lo sta accusando, però questa accusa è molto benvenuta, ci fa piacere sentire questa accusa e quindi siamo molto contenti. Ecco, deve restare nel vago, perché se per un attimo provasse a dire cosa, chi, come, cascherebbe l'asino, ci si accorgerebbe che è in gran parte inventato, forse completamente inventato. Non solo i cartelloni, i tweet, i messaggi brevi, ma anche i discorsi estesi, pronunciati dai politici, sono fatti nella stessa maniera, sfruttano gli stessi trucchi, cioè continuamente dicono qualcosa per lasciare intendere qualcos'altro e quindi convincere meglio di quel qualcos'altro che hanno detto in modo non esplicito. La propaganda politica non è molto diversa dalla pubblicità, perché anch'essa vuole persuadere, vuole persuadere con ogni mezzo, fa uso di brevi slogan e per l'appunto cerca anche di nascondere l'informazione discutibile attraverso gli stessi trucchi. Vediamo cosa faceva, ad esempio, Matteo Salvini parlando a Cuneo il 26 novembre 2016. Diceva che voleva dare finalmente un'identità a questa splendida città. Mostrava un volto amichevole ai cunesi, però dare finalmente un'identità a questa splendida città presuppone che Cuneo è una città senza identità. Ora, se Salvini avesse asserito, sono qui a Cuneo, che è una città senza identità, i cunesi gli avrebbero immediatamente voltato le spalle. Eppure lo trasmette questo contenuto. La cosa interessante è che però, siccome lo presuppone anziché asserirlo, i cunesi se lo sono lasciato dire, con ogni probabilità. Come? Gli statunitensi si sono lasciati dire prima da Ronald Reagan e poi da Donald Trump, che ha ripreso lo stesso slogan Make America Great Again, rifare grande l'America. Ecco, si sono lasciati dire, asserire di rifarla grande, ma si sono lasciati presupporre che America non era più grande. Se Trump avesse detto America is no longer great, gli Stati Uniti non sono un grande paese, nessuno gli avrebbe dato l'approvazione che invece ha ricevuto con questo slogan. Il contenuto è lo stesso, ma se asserito, crea un rigetto, una reazione critica, se presupposto crea accettazione. Ai politici piace molto questo strumento, vediamo un politico di segno ancora diverso, Matteo Renzi a Firenze il 2 dicembre 2016, parlando dei suoi meriti, dice l'Italia torna ad essere un paese che può essere punto di riferimento. Ecco, se io torno ad essere punto di riferimento vuol dire che avevo smesso di esserlo. Se Renzi avesse detto sotto precedenti amministrazioni l'Italia non era più un punto di riferimento per nessuno, sarebbe risultato molto antipatico, si sarebbe visto molto bene che stava esagerando. Invece dicendo torna ad essere un punto di riferimento, presuppone esattamente lo stesso contenuto, la differenza è che se lo presupponi le persone sono meno disturbate, si accorgono meno che stai trasmettendo un contenuto falso. Ancora Salvini in questo discorso del 2019 dice sempre che non ci rubino anche queste elezioni, ecco, sempre che non ci rubino anche queste elezioni presuppone che gli fossero state rubate delle precedenti, probabilmente le precedenti elezioni. Se lui avesse detto nelle precedenti elezioni gli altri ci hanno rubato il risultato, tutti gli ascoltatori avrebbero fatto mente locale, si sarebbero resi conto che questo era un modo di Salvini di vedere le cose, ma che non erano le cose veramente così. Dicendolo in modo presupposto, sempre che non ci rubino anche queste elezioni, è molto più facile che le persone non facciano tanta attenzione e tutto sommato quest'idea passi nelle loro teste. L'italiano ha due articoli, cioè l'articolo determinativo e l'articolo indeterminativo. Perché? Perché hanno funzioni diverse. Io vi posso dire questa mattina il sole è sorto alle 6 e 30, oppure vi posso dire domani il papa terrà un grande discorso in piazza San Pietro, oppure posso dire secondo me l'umanità sta per distruggere il pianeta. Invece non posso dire stamattina un sole è sorto alle 6 e 30, non posso dire domani in Vaticano un papa terrà un discorso e non posso dire un'umanità sta distruggendo il pianeta. Perché non posso farlo? Perché voi conoscete già il sole, il papa, l'umanità. Cioè la differenza tra i due articoli è che il serve ad avvertire che tu questa cosa la conosci già, che il destinatario la conosce già, e un no. Un'altra prova, io sarebbe molto strano che a questo punto vi dicessi sapete il mio amico sommozzatore è anche un buon elettricista. Ecco, il mio amico sommozzatore non ve lo posso dire perché non è come il papa o il sole. Voi questo amico sommozzatore non lo conoscete, quindi devo dire sapete, dato che serve, un mio amico sommozzatore è anche un buon elettricista. Dopo che ho detto un mio amico sommozzatore presentandolo come non noto a voi, poi posso dire il mio amico sommozzatore arriverà presto. Cioè posso usare il perché a quel punto voi lo conoscete già. Quindi il per le cose già conosciute, un per le cose non conosciute. I sintagmi nominali con l'articolo determinativo sono stati chiamati definite descriptions da Bertrand Russell all'inizio del novecento, cioè descrizioni definite. E sono stati fatti molti studi da cui si vede, sperimentali, da cui si vede che quando noi processiamo il linguaggio, i sintagmi con l'articolo determinativo li processiamo più rapidamente di quelli con l'articolo indeterminativo. Cioè quando leggiamo o ascoltiamo qualcuno che scrive o dice il mio amico sommozzatore, dedichiamo meno tempo, meno attenzione che se avesse detto un mio amico sommozzatore. Perché? La ragione quasi sicuramente è questa. Il ci avverte che conosciamo già quella cosa e che quindi l'attenzione necessaria è solo quella per riconoscerla, ricollocarla nelle cose che già diciamo sono in nostro possesso. Mentre se uno ci dice un, subito ci attiviamo per far cosa? Per costruire una nuova posizione nella nostra memoria, per qualcosa che non c'era ancora e per riempire questa posizione con tanta informazione nuova, quindi mettiamo più impegno. Questo potere dell'articolo determinativo negli anni Ottanta è stato usato molto per pubblicizzare prodotti dietetici. Cosa succede con i prodotti dietetici? Non è la pubblicità che ti dice di metterti a dieta, non ti convince, sei tu che già hai deciso di metterti a dieta e la pubblicità interviene quando tu in sostanza sei davanti allo scaffale dei prodotti che sai già non metti in dubbio essere dietetici. La pubblicità interviene per dirti compra il mio di prodotto dietetico e in base a che cosa tu scegli? Tu cerchi qualcosa di buono, qualcosa che dia una sensazione piacevole. Quindi il messaggio importante che la pubblicità dei prodotti dietetici vuole trasmettere non è dietetico, ma è buono, dà una sensazione piacevole. Vediamo come funzionavano le pubblicità dei prodotti dietetici negli anni Ottanta. La freschezza di iocca ha solo il 7% di grassi, oppure maionese vive la vie, il nuovo gusto ha meno grassi, oppure invito Weight Watchers, i peccati di gola che non fanno ingrassare. Ricordiamoci, sembra sempre che dica ha meno grassi, non fa ingrassare, ma questo le persone lo sanno già. La cosa di cui veramente vogliono convincerci la danno un po' per scontata, la freschezza di iocca, quella che già tutti conoscono, tutti già sanno che c'è la freschezza di iocca. Se dicesse iocca dà una grande sensazione di freschezza, noi rifletteremo e diremo ma meno di un vero formaggio. Oppure se dicesse invito Weight Watchers, sono peccati di gola, noi diremmo altro che peccati di gola, lo so io cosa sono i peccati di gola. Oppure se dicesse maionese vive la vie è il nuovo gusto, il nuovo gusto, lo metteremo in discussione. Invece lo dà per scontato la freschezza di iocca che tutti conoscono, i peccati di gola come tutti sanno, il nuovo gusto come tutti sanno. Allora, proprio l'informazione che gli interessava veramente darti, cioè è squisito, invece di dirla espressamente andando incontro al vaglio critico e al rifiuto, la danno per scontata, così noi ci crediamo, ce la beviamo e compriamo il loro prodotto invece che quello di un altro. L'articolo determinativo ha un altro potere ed è quello di presupporre che la cosa menzionata sia una sola. Noi diciamo il sole, il papa, il governo perché ce n'è uno solo. Se dicessimo un governo subito si allarga l'idea a tutto il mondo perché bisogna che ci siano più governi. Per dire un sole dovremmo essere su uno di quei pianeti, alla Isaac Asimov, dove c'erano più soli. Se no, se uno dice il sole, sta dando per scontato che tutti sanno che di sole ce n'è uno solo. Ebbè, Trenitalia in questo periodo sta usando proprio l'articolo determinativo per dire freccia rossa la firma dell'alta velocità italiana. Cosa vuol dire la firma dell'alta velocità italiana? Vuol dire che ce n'è una sola. Se Trenitalia avesse detto la nostra concorrenza Italo, nuovo trasporto viaggiatori, non è una firma dell'alta velocità italiana, tutti si sarebbero accorti che era falso. Ma Trenitalia così lo fa, lo trasmette. La firma dell'alta velocità italiana vuol dire che solo Trenitalia, solo freccia rossa, è la firma dell'alta velocità italiana. Quindi una cosa a cui nessuno crederebbe se asserita espressamente, tutto sommato si riesce a crederla perché è data per presupposta. È così vero che Italo nel giro di pochi giorni ha risposto tirando fuori una contropubblicità. I professionisti dell'alta velocità. Naturalmente serviva a rispondere all'idea messa in giro da freccia rossa che loro non lo fossero. I professionisti dell'alta velocità per di più non solo dice noi siamo professionisti, ma dice anche siamo gli unici, presuppone siamo gli unici professionisti dell'alta velocità. Quindi botta e risposta a suon di articoli determinativi. La presupposizione di unicità che si ottiene con l'articolo determinativo era usata per esempio dal quotidiano fiorentino La Nazione, in questa locandina. Scuole, la classifica delle migliori vince il Dante. Sembra innocente ma la classifica delle migliori presuppone che ci sia una sola classifica, quella vera. E in quella vera poi vince il Dante. Invece le classifiche delle scuole sono tante, fatte con criteri diversi. Quindi la verità vera era, scuole, una classifica delle migliori vince il Dante. Col che tutti invece di pensare ah il Dante è la migliore nella classifica avrebbero pensato in questa classifica vinceva il Dante e in un'altra probabilmente vinceva un'altra scuola. La Nazione perché non è che tifava per il Dante. Ha fatto questo perché voleva dare l'impressione di mettere una vera notizia. Ecco se avesse detto una classifica si sarebbe capito che era una non notizia dicendo la classifica delle migliori sembra una notizia. Un altro sistema per mettere sullo sfondo, per dare per scontato un contenuto è quello che i linguisti chiamano il topic. Ora non spieghiamo cos'è il topic ma è in uso in questa pubblicità. Non è il tuo corpo che devi cambiare, è il vestito. Ecco questa pubblicità è particolarmente disonesta perché si atteggia ad amica delle donne. Non è il tuo corpo che devi cambiare, è il vestito. Ma in realtà sottintende che cosa? Che tu qualcosa di te debba cambiare. Non è il tuo corpo che devi cambiare, è il vestito. Se avesse detto tu devi cambiare qualcosa di te sarebbe stato evidente che questa pubblicità non era proprio amica per niente delle donne perché cercava di dargli un senso di qualcosa che non va. Dire qualcosa di te lo devi cambiare. Però lo mette sullo sfondo così non ci si accorge che lo sta dicendo ma di fatto lo sta dicendo. Non è il tuo corpo che devi cambiare. Dà per ovvio, per scontato, che tu debba cambiare qualcosa di te. Allora tu non ti accorgi che potresti metterlo in discussione. Tutto sommato entra in te quest'idea che devi cambiare qualcosa ed è un'idea che naturalmente ti induce a comprare, a cambiare comprando. Questo effetto di dare per scontato il contenuto che se no non verrebbe creduto lo sfrutta anche Barilla nelle sue pubblicità, nelle sue confezioni. È quello che abbiamo dentro a renderci unici. Se Barilla dicesse siamo unici, la pasta Barilla è unica, a tutti viene subito in mente che la pasta Barilla non è unica, somiglia enormemente a tutte le altre paste. Quindi l'unico modo per dire una simile sciocchezza è far finta che sia scontata, che sia ovvia. È quello che abbiamo dentro, ci attirano l'attenzione su, è quello che abbiamo dentro a rendersi unici che è la cosa che tutti già sanno. E quindi va a finire che noi che non facciamo attenzione restiamo con l'impressione che la pasta Barilla sia unica. Un altro modo per dire qualcosa senza dirlo è usare un'elencazione, cioè una lista. Quando si elencano varie cose insieme si fa implicare che abbiano qualcosa in comune, che appartengano alla stessa categoria. Ad esempio questo faceva in un famoso, tristemente famoso, tweet Beppe Grillo nel 2015. Elezioni per Roma il prima possibile, prima che la città venga sommersa dai topi, dalla spazzatura e dai clandestini. Ecco, i topi, la spazzatura e i clandestini elencati insieme, l'impressione è che si tratti un po' sempre della stessa roba, cioè che i clandestini siano come delle bestie infestanti o come della spazzatura. Questo però non è stato detto, non è stato detto i clandestini sono spazzatura, è stato fatto implicare e quindi è più difficile che ci si accorga di quanto è brutto il pensiero che c'è dietro. Oppure in questo discorso che vediamo adesso di Alessandro Di Battista pronunciato alla Camera il 23 dicembre del 2013 in occasione del dibattito sul decreto Salva Roma. Vediamo il filmato. Abbiamo tutti quanti contro il Presidente della Repubblica che ci manca di rispetto, l'Etta che nei suoi discorsi in Parlamento al posto di parlarci delle sue idee attacca il 5 Stelle. Abbiamo contro la mafia, la massoneria, gran parte del sistema mediatico, un'industria della menzogna tenuta in piedi dai soldi dello Stato. Abbiamo contro la mafia, la massoneria, gran parte del sistema mediatico. Elencandoli insieme sembra che sia, diciamo, tutto lo stesso tipo di cose, quindi il sistema mediatico senza dirlo viene trattato come se fosse uguale alla massoneria o addirittura alla mafia. Comunque forse a mia conoscenza il capolavoro nell'uso delle liste lo ha fatto Matteo Renzi nel suo discorso del 5 dicembre 2016 quando a seguito della sconfitta nel referendum costituzionale ha annunciato le sue dimissioni da Presidente del Consiglio. Vediamo questo pezzo di video. E dico agli amici del SIC che ho perso io, non voi. Chi lotta per un'idea non può perdere. Voi avevate un'idea meravigliosa in particolar modo in questa stagione della vita politica europea. Volevate riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica, combattere il populismo, semplificare il sistema e rendere più vicini i cittadini e imprese. Avete fatto una campagna elettorale casa per casa a vostre spese. Ecco allora, Renzi ha fatto una lista di quattro diverse cose. Lo scopo del suo discorso, a quanto lui dice, non è recriminare sul referendum ma è anzi lodare quelli che hanno vinto e anche quelli che hanno perso diversi da lui. Il discorso si potrebbe vedere tutto per rendersene conto. Ma cosa dice questa lista? Dice voi volevate riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica, combattere il populismo, semplificare il sistema, rendere più vicini i cittadini e imprese. Questa elencazione dà proprio l'impressione, anzi crea l'implicatura, che ci sia qualcosa in comune fra tutte queste cose. Questo qualcosa tecnicamente i linguisti lo chiamano common integrator, cioè l'integratore comuno, l'elemento comune. E qual è l'elemento comune? Che fossero tutte cose che avevano a che fare con il referendum, cioè voi che avete perso il referendum con me volevate tutte queste cose e le volevate ottenere attraverso il referendum. E a ben guardare però non si capisce bene perché questo referendum avrebbe dovuto riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica o per quale motivo avrebbe dovuto combattere il populismo. E per la verità anche rendere più vicini i cittadini e imprese. Quindi sono tutte cose che lui presenta come se fossero dovute al referendum, ma non lo sono granché. Come fa a ottenerlo? È perché inserisce un elemento, semplificare il sistema. Semplificare il sistema quello davvero era in qualche modo attinente al referendum. Allora che cosa succede? Se guardate la freccia nello schema, quella che va a sinistra, dal fatto che c'è semplificare il sistema, si crea il common integrator, l'elemento comune della lista che queste cose sarebbero stati effetti del voto sì, del sì al referendum. Basta un elemento della lista per generare questa implicatura che tutti gli altri partecipano della stessa categoria, cioè cose che sarebbero successe con il referendum. Quindi le frecce tratteggiate in rosso che tornano su i punti 1, 2 e 4. Cosa è successo? Semplificare il sistema genera l'idea che si trattasse di cose attinenti al referendum e poi da questa ricade sugli altri tre. Al tempo stesso però, altrimenti Renzi non sarebbe un genio, diciamo, della comunicazione tendenziosa, è riuscito a creare un altro common integrator, cioè un altro elemento comune, e cioè che fossero cose desiderabili. A ben guardare, semplificare il sistema, non è detto che fosse desiderabile, anzi gli avversari dicevano non è desiderabile, quindi non era ovvio che fosse desiderabile. Rendere più vicini cittadini e imprese non si capisce poi perché dovrebbe essere una cosa desiderabile, per esempio allontanare i cittadini dalle scuole e avvicinarli alle imprese. Allora cosa fa Renzi? Con l'1 e il 2, riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica e combattere il populismo, che diciamo era facile che molti trovassero cose positive, genera, vedete le frecce dure di destra, genera il common integrator, l'elemento comune, si tratta di cose desiderabili. E in questo modo risultano desiderabili anche semplificare il sistema e rendere più vicini i cittadini e imprese, però in maniera implicita. Quindi Renzi con quattro elementi, di cui uno era effettivamente attinente al referendum e al massimo due erano effettivamente desiderabili, ottiene l'effetto che tutti e quattro implicitamente sono sia attinenti al referendum che desiderabili. Recentemente abbiamo fondato un gruppo di ricerca che studia questi fenomeni e ha anche creato un sito web che si chiama Osservatorio Permanente sulla pubblicità e la propaganda. Cosa fa questo sito? Pubblica pagelle di politici. Prende due politici che hanno parlato dello stesso argomento e analizziamo i loro discorsi e diamo un punteggio a quanto sono stati usati dei trucchi per trasferire informazione falsa o discutibile attraverso l'implicito. Cioè in pratica diciamo quale politico è stato più disonesto e ha cercato di più di ingannare i suoi elettori. Il contenuto del video che avete visto finora è spiegato molto più in dettaglio in questo libro che è uscito nel 2019. Sono degli strumenti che cercano di fornire un aiuto per accorgersi della differenza tra quello che ci viene comunicato onestamente, apertamente e quello che ci viene comunicato in maniera astuta con dei trucchi impliciti. Ecco, sono cioè degli strumenti che possono aiutarci ad essere un pochino meno burattini diretti con dei fili dall'alto e possono anche aiutarci a aiutare gli altri a essere meno burattini, cioè a far sì che sempre meno qualcuno possa permettersi di diffondere messaggi come questo. Vedete? Reintordurre il servizio militare e civile per ricordare ai nostri ragazzi che oltre ai diritti esistono anche i doveri. Questo presuppone che i giovani di oggi non sanno che oltre ai diritti esistono anche i doveri. Se chi ha scritto questo tweet avesse detto i giovani di oggi non sanno che oltre ai diritti esistono anche i doveri sarebbe apparso evidente che era un'esagerazione, una falsità, una cosa brutta. Invece presupponendolo, ricordarglielo, presuppone che non lo sanno. Ecco, presupponendolo molta gente ci avrà creduto e non è giusto che si possano dire delle cose del genere convincendo le persone di cose brutte e false come questa. Cioè che si possa con l'inganno rendere un sacco di gente nemica dei giovani. Se vogliamo conservare il nostro potere di scelta, cioè la nostra vera libertà di scegliere cosa comprare, chi votare in base al nostro interesse, dobbiamo stare molto attenti. Insomma, non vi lasciate danneggiare dalla comunicazione disonesta e diffidate di chi la usa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.